Buongiorno a tutti due lanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui come ogni settimana con una nuova puntata del market watch ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto ovviamente ve lo dico sempre trading card game giochi da tavolo fango hanno tutto quello che volete e ovviamente se volete risparmiare qualcosina e supportarmi trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione stessa cosa ovviamente ragazzi per junk store altro sponsor importantissimo per l'acquisto di prodotto coreano anche qualcosina giapponese hanno one piece io ci passerei sempre il codice sconto e il referral link lo trovate qua sotto in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto ragazzi posso metterlo solo qua contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante ovviamente anche comuni ragazzi se ne può parlare detto questo ovviamente passiamo alla lista delle carte bene partiamo col speed 2 gx middle term destruction per chiunque non spesse di cosa stia parlando è il nuovo prodotto di speed duel che ovviamente conami ha deciso di non importare in europa porca troia conami il miglior prodotto di speed 2 e che decide di stampare con tanta roba retro format con forature incredibili no no non impossibile impossibile darlo ai giocatori ragazzi stiamo parlando di un set che vabbè a parte le comuniche se qualcosina di interessante c'è tipo esplosione eroica che ok era comunque una carta che stava poco e ma sì c'è anche quella che non c'è l'immagine se vai su c'è una carta senza immagine no quella vicino a coppa d'assi a barriera di luce barriera di luce era una rara era tre ore e cinquanta no 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 ma vabbè sorvoliamo sulle comuniche comunque c'è robina interessante c'è la giara qua c'è fusione miracolo ma che c'è falosauro fossile il problema sono le secret cioè ragazzi c'è di tutto vabbè a parte un paio che non vedete ma ragazzi a questa energia arcana al mondo e questo è corazza gaia corazza gaia ok allora è bello ma abbiamo armatura sakuretsu secret cioè ci siamo svenati per prenderla foil super e adesso che ce la fanno secret non ce la importano in europa cioè io questa la ritengo una truffa potevano tipo non stamparci il penultimo che non era un prodotto incredibile questo che io vi avrei assolutamente consigliato di prendere perché ragazzi le secret tranne un paio che proprio non mi interessano che sono le due energie arcane e la robadino e vabbè anche vabbè drago armato bianco il resto sono tutte utili tutte vabbè anche il neos per me esiste secret solo da ct però per il resto erano bellissime era un prodotto fantastico che ovviamente da noi non hanno voluto far uscire ok e sapete qual è il problema di fondo è che a parte che per importarlo se non avete un negozio che l'importa è una situazione del cazzo il fatto è che se volete comprare le singole costano un boato costano troppo adesso ovviamente non mi tiro indietro dal vedere i prezzi però che cazzo dai un pachicephalosauro secret american da speed duel non mi può costa 15 euro l'uno cioè ma che me significa ti ripaghi praticamente il prodotto perché la tua scatola costa 14,99 è questo cioè ragazzi ma ci stanno rivenduti è sceso ed è risalito cioè l'hanno pagato 18,51 cioè ragazzi ma siamo seri la gente l'ha pagato fino a 20 euro un playset 20 l'uno prodotto costa 15 porca troia cioè questo questo era il classico prodotto da plus questo lo uso lo sbusto e faccio plus perché ragazzi retroformat so esplosi so palesemente esplosi edison tengo got e noi noi ci ritrovamo a dove gioca quella super perché io per questo sono incazzato dove diamine sta dove armatura sakuretsu noi dobbiamo giocare armatura sakuretsu da lcw no vabbè da un set di merda super che al silvering che cosa cip intero non esiste non esiste non esiste che esiste se sono un povero del cazzo si ammetto di essere povero grazie però non mi sento una merda perché non mi posso permettere 100 euro di carta forse poco però nel senso non mi posso permettere un playset di questo tipo e quindi adesso avrei avuto la possibilità di averci la foil da prendi foil da delle cistate del cazzo ragazzi ragazzi i venduti 9 di questo fatto non ma sono tutte così è la podo favoris 8 euro il neos space il delfino vabbè cioè sì sì ma sono tutte costose guarda che tu vedi quel prezzo ma se tu clicchi la pagina vedi il prezzo reale allora vabbè l'energia arcana gente la paga 7 euro sta roba in che senso è circa 8 dollari adesso è perché perché chi c'è sicuramente chi le importa sta qua per venderle qua anche no 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 sicuramente però se io di base la pago adesso non questa eh se io prendiamo come esempio prisma lo pago 7 euro a quanto lo vedi no no quello lp scusa scusa lo pago 10 euro a quanto devo venderlo da noi 20 15 20 e lo vedi e lo vendi è questo il fatto cioè capi con ami voglio che capisci che hai quello che stai facendo è sbagliato 18 euro 18 dollari eh ma all'inizio era tutto in over hype no no ok però capisco che gli americani sono strapieni di soldi perché parlamoci chiaro se tu apri un canale youtube americano lui spacchetta solamente roba che va dai 1000 euro in su non esiste un opening normale o se è normale è una quantità infinita di roba che è incalcolabile la spesa si esatto e quindi capisco che gli americani hanno soldi da buttare e sono disposti a pagarle così tanto io sono sicuro che se usciva da noi sta roba non costava così tanto perché un minimo di cervello ce l'abbiamo diciamo cazzo perché dovrei pagare prisma 8 euro quando il prodotto insieme costa 15 non succede perché c'è talmente tanta roba buona dentro questo prodotto che non ha senso che costi così tanto è questo il problema de base cioè probabilmente prisma lo pagavo 3 euro e 50 e ci stava perché comunque è una bella secret boh ste robe mi fanno incazzare perché fosse stato un prodotto de merda amma mia neosalius neosalius guarda quanto è bello adesso ci avrai pure la combo perché potrei giocare bubble man da speed dual secret e neosalius da speed dual secret matchavano veramente bene insieme invece no no anzi secondo me questo è un po sottotono pensavo costasse di più forse perché non costa di base già tantissimo quindi non può lcg x o rimp non mi ricordo adesso rimp da rimp secret è questo questa cosa mi no poi c'è il lente di leone c'è il gaia plate anche quello il signore della terra lì il gigante ecco per i per i giocatori dedino baby cerasaurus quanto poteva essere carino giocarlo secret invece che super però invece no siamo stronzi se non sei un cazzo di yankee non puoi giocarle puoi giocarle ma si 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 loro possono palesemente sparare per strada e giocare queste carte secret e noi non possiamo fare nessuna delle due robe meglio esatto esatto no meglio una delle due cose nel senso è positivo che non possiamo sparare per strada è negativo che non possiamo effettivamente giocare queste carte però va bene io pensavo il contrario ma va bene sarà pieno ovviamente in europa di scammer che faranno le compreranno la e ti diranno guarda eh sì 25 euro drago armato livello 10 bianco ma è questo il che cioè a meno non posso farlo perché ragazzi se lo pago 6 euro e ci hanno poi ragione ecco signor simpri all'acchima perché non ci manda anche a noi un box e vabbè peccato peccato sono molto triste per questa cosa ragazzi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate però cioè ve lo avrei consigliato molto di buon cuore mettiamola così andiamo avanti adesso ragazzi e andiamo a alcune carte che si sono hypate in questo periodo ovvero le carte veidos oh allora abbiamo awakening che diciamo di base non si è hypata più di tanto era una carta che stava sull'euro e 55 diciamo i venduti più alti stanno sui 2 euro e è più una questione dei set perché se partiamo dalla singola sono 70 centesimi poi abbiamo ovviamente il mostro questo il dragone questo in tempi non sospetti mi è stato detto da un ragazzo riccardo lo saluto è il ragazzo che porta le decklist no dai prendili perché è carina come carta ma non era stato annunciato nessun supporto poteva palesemente non uscire e stava sui 13 euro si stava già un po' hypando i primi playset iniziavano a costare sui 17 euro io ovviamente in quel periodo non avendo soldi da spendere ho detto dai lo cagniamo anche se sale sti cazzi e guarda un po' infatti questo piccolino piccolino un modo per dire perché è un 2008 che costa 25 euro da 13 è scalato a vediamo i primi playset 27 euro e 90 mmm interessante interessante che poi ovviamente si gioca anche con gli unshid mi sembra gli unshid e anche loro ovviamente sono leggermente saliti non tantissimo però la pristis da 2 euro e 70 è salita fino ai 4 euro sempre ovviamente ragazzi parlando di playset perché con la singola ci fai sempre poco poi abbiamo anche le altre due però sono super rare quindi ragazzi i prezzi sono molto bassi si vede un attimo un piccolo hype ma sono carte da 30 centesimi anche questa 60 si vede che non cioè a 2 centesimi ne sono rimaste poche cioè è una carta che se proprio si hype ha il mazzo fortissimo e tutte estemenate come le carte yubel arriveranno a 1 euro 1 euro e 50 ma ragazzi non è proprio la stessa cosa mettiamola così però comunque per farvi vedere che anche le carte più piccole leggermente si sono le pate abbiamo tidal che ragazzi lui è l'ultimo dragon ruler ad essere ancora in banded in giappone è tornato quindi ci aspettiamo torni anche da noi e da come vedete i prezzi per i primi set sono un po' altini siamo arrivati sui 7 euro per quello secret e se non ricordo male 2 euro per quelli rari no 1 euro per quelli rari ma vabbè diciamo sull'euro e 50 su quelli rari mentre la seconda è la stregona evocatrice allora ragazzi questa nel pratico si è molto hypata perché gli hanno cambiato l'effetto e in giappone è stata sbandita ovviamente sappiamo come funzionano determinate cose quando konami cambia l'effetto di una carta e lo sbandisce in giappone prima o poi arriva anche da noi quindi ovviamente la carta da costare i 12 centesimi è passata ai 2 euro 82 come vendita massima attualmente però lo sappiamo che quando verrà sbandita l'hype sarà alle stelle e il prezzo salirà ancora ovviamente a 2 e 82 non ne troviamo più abbiamo già i 3 euro 3 e 54 sicuramente se verrà sbandita sarà una carta dal meno a parte che spariranno tutte dal market e te le ricaricheranno a 10 euro però sarà una carta che si stanzierà sui 7 e 8 più o meno forse 5 ma dubito e l'altra versione che anche questa si è ipata è quella da jump che guarda che fortunato questo che l'ha pagata 2 euro e adesso si ritrova una carta da 15 e anche questa e a volte non ti aspetti succedano queste cose sono quelle che dici vabbè la prendo mi piace una topa con i capelli rossi va benissimo poi Konami decide cambiamogli l'effetto riportiamola all'interno del gioco vediamo che succede sarà una bella cartina da vedere passando avanti abbiamo carte a caso che si sono ipate per motivi totalmente randomici su alcune ragazzi non ne ho spiegherò io motivi che spiegherò io perché come sempre tu sei il solito disinformato bravissimo Erans mi piace allora la prima abbiamo Drago Chaos Massimo che è blu premetto che ne ho vendute tre copie questi giorni quindi è semplice cioè allora è il Drago Chaos Massimo che è blu finito ma la motivazione è questa e sono d'accordo se vuoi giocare se vuoi se vuoi giocare Blue Ice questo robo devi giocarlo punto perché è un effetto fortissimo e in più esatto volevo dirti guarda la versione secret spariti totalmente spariti non esistono più non esiste più niente ma c'era anche un altro Blue Ice anche il Blue Ice Chaos Dragon da LED 3 se vuoi farlo vedere ai nostri amici così come cosa anche gold ma che cazzo va bene si diventa lì che coi draghi Chaos Massimi e se cerchi il Drago Chaos ok Blue non il massimo il Drago Chaos la cartella sta 10 euro incredibile senza alcun motivo sì ma anche il Chaos normale quello che sta prima il Drago Chaos cerca quello lì cercalo tre minuti e mezzo che ti dico Drago Chaos ok Blue LED 3 ma lui non ha senso lui non ha non ha ristampe ma stava sempre così sì sì ma sta salendo anche quello ultra a parte che è bellissimo vabbè montare Blue Ice diventa ogni giorno più faticoso incredibile se lo vuoi Max Rarity sì ma anche se non lo vuoi Max Rarity evidentemente no no a parte vabbè poi i draghi bianchi da DDS che va bene sorvoliamo eh devi giocarne tre di quelli bene bene tornando ad altre carte che valgono cosa a caso abbiamo ah abbiamo il Brave Ice Pendulum Dragon il Drago Occhi Coraggiosi il Drago Pendulum Occhi Coraggiosi che nome di merda attualmente sta a 15 euro l'uno ma diciamo che c'ha una scusante ha un'unica print ed è da rate quindi capite anche voi che quando la roba c'ha monoprint e c'ha un effetto carino capite anche voi che bisogna effettivamente lucrarci ma andiamo a leggere l'effetto almeno per farvi capire cosa fa si evoca con un Drago Pendulum più mostri tipo guerriero quindi teoricamente puoi tirarlo anche dei super poli eh così la butto lì quando questa carta viene evocata tramite fusione puoi cambiare l'attacco di tutti i mostri scoperti controllati del tuo avversario a zero onesto inoltre per il resto di questo turno tutti gli altri mostri che controllano non possono attaccare peccato la limitazione però ok in più annulla gli effetti di tutti i mostri con attacco zero quindi non fanno più un cazzo diventano dei mattoni alla fine della damage step ma il mostro dell'avversario non è stato distrutto in quella battaglia puoi bandire quel mostro dell'avversario e secondo me il suo lo fa ovviamente non ho mai giocato pendolo quindi io non metto bocca su quanto possa essere forte quanto si giochi però a livello teorico leggendola così mi sembra carino mi sembra molto carino quindi se l'avete in mezzo al bulk tiratelo fuori mettiamola così perché sono 15 euro puliti gratis ma vabbè andiamo avanti abbiamo adesso oh la buca neve la fata ricca ragazzi mi spiegate perché dopo che vanno toccato ricca questa roba continua a salire perché sta a 12 euro si gioca in tre pere ed esce solo da sezle ma il mazzo non si può più giocare cioè allora ho capito che sono usciti i nuovi supporti non so se sono usciti o devono ancora uscire i nuovi supporti a romanus penso siano già usciti a questo punto però dai cioè 13 euro giocate voi pianta io non ci metto bocca però a me sembra un po' tanto konami da sezle a oggi è passato sono passati un po' di anni era il 2020 forse forse adesso io non ci metto bocca però forse è ora di una piccola ristampa la butto lì eh voglio chi so non so nessuno ma vabbè passiamo adesso all'ultima risveglia il tuo eroe elementare questo l'ho vista da the game gliel'ho fregata grazie si sta alzando anche questa la sua motivazione è stata i mostri hero piacciono a tutti so d'accordo come ha detto lui ogni carta hero si haipa metterò del mio su questa cosa assolutamente no però porca trovi è una carta da 7 euro è arrivata a 15 ma vabbè mettiamola così altro non ci si può fare e vabbè ragazzi anche questa puntata del market watch finisce qua spero come sempre vi sia piaciuta e fatemi sapere qua sotto nei commenti se sapevate qualcosa in merito a questa carta ovviamente scrivetemi qua sotto in descrizione se c'è qualcosa che conoscete che sta salendo così ne parliamo nel prossimo video e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti